Beh, non avrei mai pensato di fare lo youtuber. Emanuele, su YouTube ormai, è conosciuto a tutti come il prof di Excel, oltre ogni limite, giusto? La verità è che dietro a questo personaggio c'è il lavoro di anni di tutto il team di Esperta Business Solutions. Siamo consulenti di direzione e in ambito amministrazione, finanza e controllo, ma portiamo avanti da sempre anche l'attività di formazione aziendale, perché crediamo sia importante che tutti possono aumentare la produttività al lavoro. E oggi, per raggiungere tante persone, bisogna essere sui social. Nel 2015, quindi, ho aperto il canale YouTube Utilizzo Professionale di Microsoft Office per condividere attraverso dei tutorial il nostro metodo, quello che ci permette di affrontare, analizzare e risolvere qualsiasi problema con professionalità e precisione. In quei primi tentativi c'era un po' di tutto. Bisogno di distinguere il nostro studio di consulenza con un approccio aperto e innovativo. La mia passione per Excel, la voglia di aiutare gli altri a lavorare meglio. Perché sono convinto che utilizzare davvero bene gli strumenti che abbiamo a disposizione possa migliorare la vita di chiunque. La produttività è un valore e non ci rendiamo conto di quanto tempo, quanti errori e quanto stress possiamo evitarci grazie ai programmi assolutamente comuni come quelli del pacchetto Microsoft 365. Nel 2020, insieme al team di esperto, ho deciso di valorizzare i nostri sforzi di divulgazione. Dai tutorial siamo passati a lavorare un vero e proprio corso di Excel, completo, modulare, tutto online e un po' divertente come piace a me. E soprattutto molto pratico. Xcamp. Un tutorial di teoria chiari e completi. E tanti esercizi che ti faranno diventare un vero professionista di Excel. Abbiamo definito e prodotto ben 10 livelli di teoria e 100 esercizi. Sono stati mesi impegnativi in cui abbiamo corretto più volte la rotta. Mentre lavoravamo su concept, contenuti e comunicazione, ci siamo resi conto che non potevamo dimenticare la quarta C, la community. Il percorso on crowd con la Camera di Commercio di Torino ci ha accompagnati in ogni fase della campagna di crowdfunding su produzioni dal basso, ma ci ha aiutato prima di tutto a capire l'importanza che dovevano avere le persone nel nostro progetto. In sei mesi abbiamo raccolto oltre 20.000 euro, ma soprattutto abbiamo convinto sulla fiducia 169 sostenitori, tra cui 142 si sono sostanzialmente iscritti al corso a scatola chiusa ancora mesi prima del lancio. Non sono numeri da trend virale, ma sono risultati che giudico solidi e di qualità. E abbiamo visto che funziona. Xcamp ha già centinaia di iscritti e tantissime recensioni a 5 stelle. Abbiamo anche ricevuto il premio Eccellenza Formazione 2023 dall'Associazione Italiana Formatori. Ci siamo qualificati terzi nella categoria Area Economia, Processi Produttivi e Sostenibilità. Oggi il nostro progetto di divulgazione continua tenendo sempre al centro le persone. Siamo su YouTube, dove ormai siamo tra i primi canali in Italia dedicati ad Excel, ma anche su Telegram, LinkedIn, Facebook, Instagram e TikTok. E inviamo una newsletter mensile con tanti consigli di produttività. E dopo tre anni stiamo pensando a nuove evoluzioni, magari proprio con una nuova campagna di crowdfunding. E allora, che aspetti? Ci vediamo in Xcamp! Ciao!